Chi ricorda il bagno di una volta? Un bagno ricco di profumi e sostanze buone per la pelle. Ho messo nell'acqua fiori di borragine, fiori di rosmarino, petali di rose e foglie di albicocca. Voi sicuramente vi chiedete il perché di questi petali di rose, fiori di rosmarino, fiori di borragine, foglie di albicocca e da cosa servono? I fiori di rosmarino sono un tonico generale con azione stimolante e fortificante. Sono efficaci contro l'affaticamento fisico e mentale. Le foglie di albicocca sono efficace per la pelle disidratata e arida. Donano a pelle liscia e luminosa. I fiori di borragine sono degli ottimi anti-age contro macchie cutanee e smagliature. E alla fine i petali di rosa. I petali di rosa sono degli ottimi tonificanti e rilassanti, una prevenzione naturale contro tosse e bronchite. Ehi le nonne, fate la prova, vedrete voi stessi.